Come si manifestano le crisi epilettiche? Ci sono delle caratteristiche e dei sintomi che possano far pensare già all'insorgenza di una crisi? Di questo argomento ne abbiamo parlato a Roma in occasione del congresso della Licea, la quarantesima edizione con il dottor Fabio Minigucci. Allora dottore, dal punto di vista proprio pratico, quali sono i sintomi che avverte il paziente e se ci sono anche dei sintomi premonitori di quello che sta accadendo? I sintomi possono essere i più diversi, dipende da quale area del cervello è interessata dalla comparsa della crisi, cioè quell'area del cervello nella quale si sviluppa questa scarica patologica eccessiva. Se tutto il cervello, il paziente avrà quello che tutti pensano di saper riconoscere, cioè le crisi con le convulsioni bilaterali, se invece è solo una parte del cervello, il paziente avrà dei disturbi legati a quello che fa quella parte del cervello. Quindi se è l'area di cervello che serve a vedere, il paziente può darsi che veda delle cose che in realtà non ci sono, se è l'area di cervello che serve a muovere la mano, il paziente avrà dei movimenti strani alla mano, qualunque cosa. Alcune volte la crisi inizia in un punto alle cervelle e poi si diffonde dappertutto, quindi comincia con un sintomo particolare o altro per poi finire a avere delle manifestazioni bilaterali, convulsioni vere e proprie. Questa può insorgere a qualunque età di un paziente oppure comunque ci deve essere sempre qualcosa prima nell'età infantile? Cioè la prima crisi quando è che può nascere? A qualunque età, la crisi è un sintomo e quindi come tale qualunque età se c'è un problema carico del cervello. Dipende, ci sono situazioni congenite nelle quali ovviamente già la nascita comincia le crisi. Ecco, come agire? Bisogna subito rivolgersi al pronto soccorso, alle unità di emergenza urgenza? La prima crisi va interpretata per quello che è, cioè un sintomo di un problema neurologico, la prima crisi nella vita di un paziente e quindi ha lo stesso valore di avere una paresi o qualcos'altro. Quindi si va in ospedale perché bisogna capire. Una volta che si è capito qual è il problema, cioè se il paziente non ha più la prima crisi ma ha la seconda, la terza, la quinta crisi, a quel punto andare in ospedale spesso non ha senso. Si deve andare in ospedale se il paziente si fa male durante la crisi, quindi se ha dei traumi oppure se invece che una singola crisi arrivano più crisi attaccate. Perché? Perché a quel punto bisogna fare un intervento medico-farmacologico che se no per la singola crisi spesso non ha nessun senso.